Pochissimi giorni di lavoro insieme, solo due settimane, quindi ancora tanto da rodare, tanto lavoro da fare, però si sono viste buone cose, un ottimo atteggiamento da parte di questi ragazzi. Che Campus Italia hai visto? Sì, senza dubbio Matteo. La verità, noi siamo nella seconda settimana della pre-stagione, quindi abbiamo fatto due micro-sicli di adattamento e adesso iniziamo a aumentare questa intensità e continuare a lavorare il nostro modello di gioco. Oggi la prima partita è stata molto bene, la difesa, mi è piaciuta molto la pressione in generale, sia in 5-1, sia in 6-0. Riuscimmo a recuperare tantissimi palloni. La seconda partita, molta difficoltà in ripiegamento perché abbiamo fatto tantissimi sbagli uno contro uno con i porcieri e anche tantissimo turnover, quindi se c'è tantissimo turnover è molto difficile di piegare, specialmente con una squadra veloce, veloce, che c'è un contrapiede fortissimo come Camerano. È chiaro che poi erano le prime due partite, c'è anche un aspetto psicologico, sono tutti ragazzi giovanissimi, vestono per la prima volta la maglia del Campus all'interno della casa della Pallamano. Ecco, dopo queste prime due settimane com'è l'approccio mentale di questi giocatori, la predisposizione al lavoro? Bellissima, la disposizione, l'atteggiamento, il comportamento in generale sta bellissimo. Chiaro, come hai detto tu, sono giovane e stare con la maletta dell'Italia è un orgoglio molto grande per tutti noi, quindi c'è questa pressione naturale della prima partita, però dobbiamo sapere che abbiamo una strada lunga, però dobbiamo stare tranquilli, lavorare bene queste sei settimane di prestagione per stare al massimo di nostra qualità in gennaio quando arriviamo alla qualificazione del campionato europeo.